Come stai? Che fai? Dopo il secondo lockdown mi trovavo in un periodo particolare della mia vita Che pensi di quella cosa? Che pensi di quell'altra cosa sogni? Avevo problemi di soldi Nessuno le fa più le domande Litigavo con tutti gli amici Diamo tutto per scontato, siamo sempre più concentrati su noi stessi E allora ho pensato di fare la cosa più logica in una situazione del genere Sembra che invadiamo la privacy Ovvero... Comprarmi un assistente vocale Nessuno le fa più le domande perché sembra maleducato E così rimaniamo sempre più soli Io però, Alexo, te le faccio le domande E infatti, solo a noi assistenti vocali c'era un po' del cazzo Ho visto cose che voi umani